Si è tenuto ieri presso la città di Biceglie un incontro durante il quale si è riflettuto su quanto emerso dal Sinodo sulla Famiglia. L'evento si inserisce nel ciclo di incontri sul tema Se conoscessi il dono di Dio, percorsi di riflessione dal Sinodo sulla Famiglia. Francesco Rossi. Il Sinodo della Famiglia in un periodo così particolare come quello del Giubileo della Misericordia, quale sarà il tema della sua riflessione? Allora, io inizio proprio a trattare i primi paragrafi della relazione finale del Sinodo della Famiglia, i quali danno uno sguardo antropologico-culturale sul contesto della famiglia nell'oggi. Seguiranno così un po' tutti gli appuntamenti di questi martedì successivi, in cui si snoderà tutto il discorso che i Vescovi ci propongono per aiutarci a riflettere con loro sulla grande realtà e possibilità della famiglia oggi. Ogni puntata sarà introdotta dalla lettura da un testo biblico, che quasi ci aiuterà poi a puntare il riflettore ancora meglio sulla riflessione dei Vescovi stessi. E ci saremo in diversi ad avvicendarci. Cominciamo noi e poi si avvicenderanno ancora altre religiose, sacerdoti e coppie di famiglie. Per cui ci sarà un modo anche differenziato di guardarci e di confrontarci gli uni agli altri. Ma la famiglia è davvero sempre al centro della società? Credo che la Chiesa non stia davvero insistendo tantissimo per ricordarcelo e per stimolarci ad averne cura. Non riusciremo proprio a pensare altro modo di formarci alla vita e alla relazione. E' altro modo di crescere e maturare se non in un contesto di prossimità, di relazione. E la famiglia è il luogo vincente. Eppure ci sono tanti attacchi in questo momento proprio all'istituzione famiglia. Tanti, tanti. E non facili. E che ci siano, possiamo comprenderlo, ma quanto ancora più mettono alla prova la verità dello stato di famiglia oggi. Cioè quanto siamo deboli e forse a volte impreparati per rispondere a questo. Tutto sommato, pensate anche nel percorso della vita cristiana. Da che mondo è mondo? Evita di attacchi da affrontare. E' vero che cogliamo forse in verità la sensazione di essere confusi. Anche perché molto velocemente la composizione, le composizioni familiari vanno differenziandosi. Ponendo grandi interrogativi. Di fronte a questo siamo stimolati a una ricerca importante. Dove sicuramente sono da salvare i valori fondamentali che tengono proprio la casa, famiglia. E dove tutte le situazioni che possono aversi a formare in modo alternativo, in modo successivo, sono quelle che la Chiesa vuole guardare con attenzione e alcuni vuole comunque dedicare cura perché storie che succedono nella Chiesa, nella famiglia di Dio, nella storia dell'umanità.